doppio incidente in autostrada feriti e traffico bloccato scuole istituzioni pesaresi unite nel giorno della memoria regolamento decoro urbano ricci ribatte alle critiche da lunedì pesaro avrà un punto tamponi dedicato solo agli studenti giovedì 27 gennaio buona serata benvenuti al nostro telegiornale rossini news in apertura questa sera apriamo l'edizione mostrandovi queste immagini che si riferiscono ad uno dei due incidenti stradali verificatisi questa mattina nella corsia nord dell'autostrada a 14 due chilometri dopo il casello di pesaro poco dopo le 11 un'auto ha sbandato e il camion che la seguiva non è riuscito a evitarla la donna alla guida dell'auto è stata trasportata in ospedale con ferite gravi la coda che si è formata improvvisamente ha creato però un secondo scontro fra due autofurgoni in cui il conducente di uno dei due veicoli è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per disincastrarlo e trasportarlo in ospedale non in pericolo di vita in autostrada si è creato un incolonamento di traffico sbloccatosi solo dopo un'ora oggi è giovedì 27 gennaio un giorno dedicato appunto alla memoria una data che coincide con la liberazione del campo di sterminio di auschwitz di 77 anni fa una data che la città di pesaro ha onorato oggi con diverse iniziative a cominciare dalla prefettura che ha premiato tre famiglie di altrettante vittime del nostro territorio vittime di deportazione e prigionia nei lager nazisti carlo braceschi silvio stefanelli gerola monardella tre individui che sono la sintesi delle migliaia di nomi e cognomi deportati e internati nei lager nazisti nomi che ogni 27 gennaio rinnovano l'obbligo e il dovere del ricordo nella data che da 21 anni è stata istituita come il giorno della perpetua memoria degli orrori di auschwitz con la sobrietà che si conviene al periodo pandemico la prefettura di pesaro urbino ha voluto omaggiare tre famiglie del territorio pesarese toccate ancor più da vicino da quegli orrori in quanto figli o nipoti di deportati o prigionieri e anche oggi abbiamo avuto la possibilità nonostante le ristrettezze che ci impone l'emergenza sanitaria di di dare in presenza la medaglia in ricordo e alla memoria di quelle delle vittime dell'olocausto ad alcuni familiari a tre familiari di questo territorio pesarese quindi a fano fratterosa e la stessa pesaro questa è una cerimonia molto sobria ma comunque non per questo meno sentita tre medaglie per tre storie quelle del militare pesarese silvio stefanelli che nelle 43 fu catturato dai tedeschi e internato fino al 1945 in diversi campi di prigionia e concentramento dai quali tentò in vano di fuggire venendo spesso picchiato e reimprigionato per poi essere trasferito e lavorare in fabbrica fino al rimpatrio quella di gerolamo nardella di fratterosa studente di ingegneria di soli 18 anni che venne imprigionato come rappresaglia verso il nonno gerolamo nonis generale del regio esercito nardella che nel lager birkenau a nove rimase prigioniero due anni salvando la vita un amico col quale liberati tornò in italia a piedi per poi lavorare assieme tutta la vita o quella del fanese carlo braceschi che morì 24 anni imprigionato e caricato in grecia su una nave che naufragò con appena 40 superstiti fra i 4.200 prigionieri a bordo io carlo braceschi omonimo di carlo braceschi naufragato l'11 febbraio del 1944 nel mare geo con il piroscopo orio oggi commosso ricevo la medaglia per mio zio la famiglia braceschi ringrazia tutte le eccellenze il prefetto di pesaro e le autorità per il prefetto è una memoria che deve insistentemente essere tramandata alle nuove generazioni inculcare nelle nuove generazioni in questo senso del bene no dell'affetto dell'amore in contrapposizione all'odio che ha pervaso all'epoca questo eccidio e che continua purtroppo oggi ad essere ad essere ancora ad alimentare ancora le menti umane con questi sentimenti quindi noi cerchiamo di rinforzare sempre più il senso di responsabilità e di educazione alla memoria delle nuove delle nuove generazioni dei giovani soprattutto nell'ambito scolastico dalla giornata della memoria alla responsabilità della memoria questo il titolo di una mattinata dedicata al ricordo e alla condanna delle oppressioni naziste confezionata dalle scuole superiori pesaresi ritrovatesi a causa delle restrizioni per la pandemia in una diretta streaming che avete potuto apprezzare questa mattina su rossini tv le restrizioni da pandemia non mettono limiti all'obbligo di ricordare così il 27 gennaio giorno della memoria a 77 anni dalla liberazione di auschwitz diventa la responsabilità della memoria titolo di una giornata che ha visto istituzioni e scuole pesaresi distanti fisicamente ma unite in una grande diretta streaming trasmessa anche da rossini tv che ha convogliato in collegamento tutti gli istituti superiori pesaresi e il conservatorio rossini nell'esposizione di elaborati frutto del lavoro durante l'anno scolastico otto scuole che hanno esposto in podcast laboratoriali le otto oppressioni della persecuzione nazista codificate in triangoli otto triangoli per commemorare la discriminazione a ebrei omosessuali prigionieri politici delinquenti comuni emigrati asociali rom e testimoni di geova marco perugini presidente del consiglio comunale è stato regista della videoconferenza assieme al liceo marconi e ha voluto aggiungere anche una nona oppressione spesso dimenticata vi volevo parlare appunto di quello che oggi non troviamo nei triangoli i triangoli non parlano appunto di questa eutanasia nazista di cui si è parlato forse poco i disabili mentali e coloro che erano affetti da malattie genetiche erano per i nazisti coloro che vivevano vite indegne di non essere vite indegne di essere vissute per questo hanno vissuto una discriminazione frutto di un disegno molto preciso quello dell'action t4 l'azione t4 loro venivano uccisi venivano perseguitati chiaramente solo perché erano nati diversi battaglia all'odio che hanno ricevuto l'applauso in streaming del prefetto ricciardi delle sindaco ricci dell'assessore alla crescita camilla murgia e del direttore dell'ufficio scolastico provinciale alessandra belloni più il tempo passa più il ricordo sbiadisce più diventano flebili le voci dei sopravvissuti più voi ragazzi avete la responsabilità di conservare la memoria di questi tragici e terribili accadimenti perché non si abbiano più a ripetere ed ora cambiamo argomento perché il sindaco matteo ricci è intervenuto oggi con un video postato sui suoi social in cui ha voluto rispondere a diverse critiche arrivate sul nuovo regolamento del decoro urbano del comune di pesaro il nuovo regolamento sul decoro urbano di pesaro che vieta l'apertura di una certa tipologia di nuove attività nel cardo e nel decumano del centro storico ha suscitato un nevespaio di polemiche soprattutto attraverso i social dove non manca chi addita il nuovo provvedimento come discriminatorio soprattutto per quello che riguarda le attività etniche sempre attraverso i social il sindaco di pesaro matteo ricci è oggi voluto intervenire attraverso un video per ripuntualizzare il regolamento stilato dall'assessore francesca franquellucci e sedare polemiche ritenute strumentalizzate dei commenti abbastanza surreali magari degli stessi che si scandalizzano poi quando in via branca apre un negozio che vende le mutande allora vi voglio leggere il cambio del regolamento il cambio del regolamento dice che su via branca via rossini via san francesco corso 11 settembre che sono le vie del passeggio ma anche le vie più importanti dal punto di vista del collegamento storico culturale tra i monumenti della città da adesso in poi non potranno aprire attività merceologiche con una gamma indistinte generalizzata di prodotti famosi bazar perché riteniamo che non abbiano a che fare con la qualità non si potranno aprire gli apparecchi automatici perché altrimenti rischiamo di riempire le vie con gli apparecchi automatici distributori automatici non potranno aprire attività con cibi da sport se non tipiche del nostro territorio per capirci non potrà aprire nel kebab nel mcdonald non potranno aprire sale da ballo discoteca e nightclub non ci potranno essere attività di cambio moneta transfer o phone center che non c'entrano nulla nelle vie principali non ci potranno essere i compro oro non ci potranno essere i centri scommesse non ci potranno essere i sexy shop ognuno è libero andare al sexy shop magari non nelle vie principali della città così come le lavanderie automatiche e le sale da gioco questo per tutelare il più possibile un'area commerciale che soffre una crisi cronica da anni perché purtroppo da anni il commercio delle piccole attività è in crisi e che adesso soffre una concorrenza fortissima delle vendite online ovviamente non lo possiamo fare su tutte le città anche perché su tutta la città anche perché noi crediamo nelle liberalizzazioni e crediamo che ognuno possa avere e debba avere l'opportunità di aprire l'attività che crede se ovviamente è lecita però nella via principale della città per tutelare visto la crisi del commercio e gli affitti molto alti abbiamo pensato di mettere questo limite per le nuove attività tutte le strumentalizzazioni fatte insomma sono fatte da chi probabilmente non ha letto il il regolamento poi sinceramente accusare me di discriminazione penso di essere uno dei sindaci più antirassisti del mondo non soltanto d'italia lo dimostra la mia storia il mio pensiero e il mio pensiero quotidiano sindaco che ha anche ricordato come il nuovo regolamento sia coerente ad una strategia già avviata e che continuerà con altri interventi nel segno del decoro negli ultimi anni abbiamo liberato il centro storico dalle auto non ci sono più le auto in piazza del popolo non ci sono più le auto davanti musei civici non ci sono più le auto davanti al conservatorio in via san francesco per il corso in piazza che era piena di macchine della della polizia e lo abbiamo fatto appunto per restituire spazio del decoro alla città abbiamo cambiato le insegne ordinando le insegne sia dei contenitori culturali che delle attività economiche e andremo avanti adesso francesca cercherà di togliere i tanti totem pubblicitari che abbiamo in giro per la città mettendo della cartellonistica nuova elettronica digitale che possa essere un elemento di innovazione al tempo stesso di ordine nella città rifaremo molti selciati a iniziare la piazza del popolo che verrà completamente riqualificata e al tempo stesso come avete visto stiamo portando a pesaro tantissimi investimenti che riguardano contenitori culturali sia legati al pnr sia con altri bandi da lunedì 31 gennaio a pesaro ci sarà un punto di tamponi rapidi in farmacia dedicato specificatamente agli studenti delle scuole sarà allestito da aspe spa nella farmacia comunale di soria in via laurana con prezzi calmerati di 12 euro per gli studenti fra i 6 e i 12 anni mentre resterà in vigore l'esenzione attuale a 8 euro per quelli fra i 12 e 18 anni un'iniziativa annunciata oggi dal presidente aspes luca pieri e dalle assessore comunali camilla morgia e aidi morotti studiata per facilitare le procedure di famiglie alle prese con le quarantene dei propri figli e con inevitabili rallentamenti a causa delle norme mole di contagi di questo periodo al centro tamponi di soria si accederà solo su prenotazione chiamando il numero che vedete appunto in sovrimpressione 3 4 5 0 9 23 163 al dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 19 sabato e domenica arriva invece nelle marche il quarto weekend consecutivo di open day dedicato ai vaccini anti covid senza prenotazione vaccinazioni solo per le persone di età superiore ai 18 anni nella provincia di pesaro urbino vaccini sia il sabato che la domenica al codma di fano dalle 14 alle 20 mentre il punto vaccinale dell'ex ristò di pesaro sarà aperto domenica 30 gennaio dalle 8 e 30 alle ore 13 e ora passiamo al consueto appuntamento con l'aggiornamento dei dati della pandemia sul nostro territorio contagi e ricoveri stanno rallentando la loro crescita e si confermano stabili a quelli degli ultimi due giorni 6.152 nuovi contagiati di cui 1.405 in provincia di pesaro urbino ricoveri stazionari con 358 pazienti indegenza di cui 58 in terapia intensiva sempre sostenuto invece il numero dei decessi oggi se ne contano altri 8 di età compresa fra i 47 e 90 anni nessuno dei quali della provincia di pesaro urbino e continua ad allungarsi la rete di piste ciclabili del comune di pesaro ci sono infatti altri 32 chilometri già finanziati e tanti altri progetti per una città sempre più a misura di bicicletta progetti che ci vengono illustrati dall'assessore comunale enzo belloni i chilometri di ciclabile già finanziati sono circa 32 e quindi la partenza sarà già iniziato il lavoro sulla ciclabile lungo il fiume di via gradara quello che ci porta in zona largo a scolipiceno è un lavoro di illuminazione che avevamo già previsto lo scorso anno e nel frattempo la ditta inizierà anche un'altra ditta inizierà i lavori per rendere definitiva la ciclabile su via ponchielli quindi quel tratto che adesso vedete con dei guardrail e sopra il fiume e diciamo che la ciclabile di congiunzione tra i quartieri di tombaccia e quello di villa san martino e la stessa ditta ha in appalto anche il completamento del tratto ciclabile in zona celletta quindi questi sono i primi tre lavori che partiranno quello invece che partirà in primavera sarà il la ciclabile di via fratti appena marchi molti servizi terminerà i lavori e contiamo di terminare entro l'anno anche la ciclabile di colombarone la famosa ciclovia adriatica che da qui alla primavera dovrebbe andare in gara e poi non sarà un lavoro insomma complicatissimo dal punto di vista del della realizzazione è stato più complicato dal punto di vista burocratico come come succede spesso ecco in cittadina ci sono anche poi dei piani che vanno oltre il comune anche con accordi mi sembra confano e montbaroccio sì quello è un tavolo che abbiamo aperto assieme consigliere biancani una settimana scorso un collegamento che si può vedere coinvolti il comune di pesaro il comune di montbaroccio e il comune di fano c'è l'idea di sviluppare un progetto che sia legato più che altro al ciclo turismo è la pedalata del sabato e la domenica attraverso strade vicinali e strade private strade comunali che possano creare un percorso ripeto che collega i tre comuni che sono comuni vicinissimi e che hanno un panorama straordinario per chi ama pedalare nel frattempo si è ragionato anche di un collegamento ciclabile dal fenile fino a santa maria dell'arzilla santa maria dell'arzilla che è il comune di pesaro però dal punto di vista della ciclabilità no e si muove in pianura è un leggerissima salita se deve andare verso fano mentre muoversi verso pesaro diventa un pochino più più complicato con la regione continua e andrà avanti partirà il discorso del collegamento ciclabile che ci porterà da pesaro fino a borgo santa maria un percorso che si svilupperà appunto lungo l'argile del fiume fino al galopatoio poi attraverserà la strada urbinate per per arrivare insomma appunto fino a borgo santa maria uno di quei collegamenti che i cittadini di borgo si aspettano tanto tempo e finalmente insomma vediamo realizzati una delle esigenze che è venuta fuori il famoso collegamento da pesaro fino a villa seccolini e oggettivamente dagli studi che abbiamo è un collegamento che dobbiamo prevedere lungo la montella battese e con un costo di oltre 3 milioni di euro e pertanto ci stiamo preparando per riuscire in qualche modo a aggredire quei bandi che che arrivano dall'europa o dalla regione o da roma ed essere pronti per per poi aumentare il numero di chilometri ciclabili che la nostra città ha avuto un successo oltre le aspettative il concorso di idee organizzato da gradara in nova per realizzare il logo del brand riviera del san bartolo che dallo scorso aprile ha concretizzato un accordo di partnership di valorizzazione turistica fra i comuni di pesaro gabice mare e la stessa gradara più di 50 i progetti arrivati da tutta italia che ora saranno valutati da una commissione giudicante per scegliere un brand una brand identity che coniughi sostenibilità bellezza paesaggistica e valori della riviera del san bartolo ed ora uno spazio dedicato ai libri e a una pubblicazione unica nel suo genere nell'esplorare passato e presente di un'eccellenza del nostro territorio come il bianchello del metauro vino che diventa un libro grazie alle ricerche del sommelier e divulgatore eno gastronomico pesarese gianluigi garattoni è stato un lungo lavoro che ho voluto fortemente perché ho sempre creduto in questo vino e in particolare in questi anni ho avuto la possibilità grazie anche approfondimenti seminari che ho avuto la fortuna di poter realizzare e ho recuperato diverso materiale e quindi sono riuscito ad un certo punto della mia vita a mettere in fila tutte queste informazioni come contributo per il territorio perché ho recuperato diversi aneddoti diverse documentazioni anche storiche che ho pensato di condividere creando appunto una pubblicazione il focus è appunto legato a quello che sono diversi aspetti che entrano nella denominazione di origine in particolare quindi si parte dalla storia perché il forte legame della viticoltura è da sempre stato presente nei secoli nella valata del metauro e ho voluto quindi raccontarne le peculiarità con ricerche svolte in diverse biblioteche del territorio che mi hanno portato anche a recuperare dei documenti storici in alcuni archivi di stato pesaro fanno ma anche ravenna ad esempio perché ci sono delle delle notizie storiche che appunto legano alcune chiese e alcuni avamposti monastici a questo territorio ravennate il discorso del primo interprete di questa denominazione che è stato Guglielmo Anzilotti è qui stata nel libro dedicata a una intervista che appunto celebra l'opera di quest'uomo che ha iniziato a lavorare sul bianchello alla metà degli anni sessanta quindi tanto tempo fa ormai e ha portato con il suo lavoro il bianchello del metauro a confrontarsi con i grandi vini d'Italia del mondo alla metà degli anni settanta e interessa in particolare i tanti paesi che sono raccontati nel disciplinare di produzione e in particolare nel capitolo dedicato al disciplinare di produzione sono 18 paesi e da Fano si va verso l'interno quindi si arriva fino al territorio urbinate e in particolare è stata fatta anche e qui arriviamo al discorso dell'approfondimento territoriale un'analisi su quelle che sono le peculiarità climatiche e geologiche del comprensorio ci sono delle diversità analizzate anche grazie al lavoro e alla passione di Giampaolo Baldelli che è un questo analisi sulla geologia del territorio e diciamo peculiarità che mettono in luce quindi delle diversità diversità che unite alla parte dei vignaioli quindi diciamo la parte che viene raccontata in termini di viticoltura in termini di enologia che ovviamente sono pratiche che vengono diciamo così realizzate attraverso l'esperienza umana quindi il fattore umano portano a una gamma di vini da uve biancame in questo caso prevalentemente che si sposano con grandi piatti della gastronomia territoriale e con numerose anche interpretazioni di questi piatti quindi una gamma di vini che può decisamente affrontare la gastronomia e quindi per conoscerli per approfondire le storie anche di chi lavora sul territorio e i vignaioli che quindi da sempre ci credono e dedicano energia a questo prodotto è stata fatta l'ultima parte che diciamo segue quello che è il tema del anche attuale dell'enoturismo perché offre otto itinerari che raccolgono 25 aziende che sono state censite diciamo nel 2021 entro la metà del 2021 e quindi offre la possibilità con questi itinerari di poter andare a scoprire sul territorio le storie dei vignaioli e delle famiglie che lavorano su questo prodotto il libro poi è stato anche illustrato da Francesco Seresi che è un giovane e talentuoso che ha portato il suo contributo dando creatività a questa pubblicazione concludiamo con una notizia di sport mancano pochi giorni alla fine del calcio mercato e la vis decide di rinforzare la difesa ufficializzando l'arrivo in prestito del difensore classe 1998 Manuel Ferrini proveniente da Renate con la formula del prestito si tratta di un riforzo di un reparto che perde per 10 partite Cusumano incappato in una maxis qualifica per un presunto insulto razzista ad un avversario e continuiamo a parlare di sport attenzione perché questa sera su Rossini TV si continua appunto a parlare di sport con una nuova puntata di Insieme a Canestro saremo in diretta alle 21.20 gli ospiti della puntata sono Tyler Larson, Luigi Gresta e avrete la possibilità di commentare in diretta quello che diranno gli ospiti chiaramente usando il numero di Whatsapp che vedete in sovraimpressione oppure scrivendo il vostro messaggio sotto la diretta Facebook non perdetevi questo appuntamento perché avrete anche possibilità di vincere i biglietti per le prossime partite e poi vi ricordiamo che come ogni venerdì grazie a Don Marco Di Giorgio avete la possibilità di ascoltare la sua lettura e il commento al Vangelo della Domenica ogni venerdì alle 17.30, il sabato alle 10.30 e alle 16, la domenica alle 8 e alle 11 e poi come tutti i venerdì torna il Vallefoglia Magazine, Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine il nostro approfondimento dedicato a questo grande grandissimo territorio alle ore 20 tutti i venerdì e poi in replica fino al martedì sabato 29 gennaio torna una nuova puntata di WePesaro TV come sapete il primo e il terzo sabato di tutti i mesi Rossini TV dedica uno spazio al comune di Pesaro con WePesaro TV l'ospite di questa settimana quindi sabato alle ore 13.30 vedrete una bella intervista fatta a Francesca Frenquellucci e poi domenica consueto appuntamento con la trasmissione in diretta delle messe allora alle 11.15 domenica saremo in diretta dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per averci seguito anche questa sera l'informazione su Rossini TV torna domani mattina in diretta alle 7.20 buona serata